Benvenuti su Fast Forward, la rubrica dove ogni martedì alle ore 12 dico di iscriversi al canale a quelli che ancora non lo hanno fatto. E sì, parliamo di web marketing, una settimana prima. In questa puntata ci sarà un contributo eccezionale, mi raccomando, restate sintonizzati. L'avvocato Fulvio Sarzana, sul Fatto Quotidiano, lancia un allarme che dovrebbe preoccupare tutti quelli che si occupano di web in genere. La notizia, letta così velocemente, mi ha fatto prendere un colpo. Sapete, vivendo in Italia mi aspetto un po' di tutto e siccome stiamo parlando di censura, è una faccenda molto delicata e riguarda tutti. Io non sono un avvocato, vi chiedo scuso per eventuali errori, ma vista la preoccupazione ho fatto una piccola indagine per illustrarvi al meglio la faccenda. Prima d'ogni cosa, sappiate che la Gcom agisce esclusivamente su denuncia o segnalazione. Ogni volta che questo avviene, la Gcom deve aprire un provvedimento e il cittadino può seguirlo per informarsi. Ed è qui la prima falla segnalata dall'avvocato. Delle 217 istanze ricevute, solo 96 sono pubbliche, le altre 121 non si sa che fine abbiano fatto. Spero che la Gcom chiarisca, anche se non credo che ci siano chissà quali strani motivi, però abbiamo il diritto di informarci. La seconda problematica riguarda il fatto che sia sparito un blog, nonostante le promesse di non toccare blog e forum. L'avvocato sospetta che siano molti di più quelli colpiti. Ecco, secondo me qui c'è un errore. Se c'è una violazione del copyright, non importa dove è stata fatta, va punita. Che sia un blog, un forum, la piattaforma non c'entra. Solo che in questo caso dobbiamo chiarire due dubbi. Perché il blog è stato rimosso? Ma soprattutto, è giusto rimuovere i siti in questo modo? Sono tanti i dubbi dell'avvocato e leggendo i commenti degli utenti questi crescono. La paura di censura c'è ed è forte. Non riescono a risalire a cosa c'era scritto nel blog. Archive.org non riporta niente. La cache di Google è oramai andata. Ehi, ma non c'era un motore di ricerca che era sempre indietro? E voi che prendete sempre in giro Bing. Siete diffidenti? Ecco cosa siete. Bing? Alla cache della pagina. Ed eccola. Il blog contiene un link a un documento che ora non c'è più, ma dalla descrizione sappiamo cosa c'era. La traduzione integrale in italiano di un test per valutare le principali caratteristiche della personalità. La società aggiunta organizzazioni speciali SRL è la titolare dei diritti dell'opera editoriale per la lingua italiana e si è vista pubblicare integralmente il testo su internet. Alla Gcom non ha segnalato solo il blog che sta su blogspot.it, ma ha anche una discussione su Forum Free e su Yahoo Answer. Ora, lo dico sottovoce e con tanti dubbi, l'avvocato per me si sbaglia. Le tre procedure aperte, che corrispondono alle istanze 190, 192 e 208, chiedono un adeguamento spontaneo a chi fornisce servizi di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano. Attenzione, non sono un obbligo, perché prima di prendere un provvedimento la Gcom dà 35 giorni di tempo per adeguarsi. Passato questo periodo, se nessuno interverrà, la Gcom pubblicherà sul sito il provvedimento che intende prendere contro quest'istanza. Ora, per l'istanza 192, quella riferita al blog sul blogspot.it, che ha dato il via a tutto l'allarme dell'avvocato sul fatto quotidiano, sappiate che la Gcom non ha chiuso un bel niente. Infatti è stata archiviata perché Google ha comunicato alla direzione dei servizi media che l'opera segnalata non è più accessibile perché è rimossa dalla persona che aveva caricato il file. In questo caso, quindi, Google, che è proprietario di blogspot.it, comunica che il blog è stato chiuso dall'utente. Ho contattato la persona direttamente, spero che mi risponda, così chiariremo tutta la faccenda e vedremo se è stato l'utente o se è stato Google. La cosa della quale siamo sicuri è che non è stata la Gcom. Per l'istanza 190, invece, che riguarda Forum Free, non c'è più la discussione. È probabile che ci sia stato un intervento dei proprietari e che presto la Gcom lo notificherà. Invece, per la 208, non è vero che Yahoo non ha adempito e si è rifiutata perché sta in America. La vicenda si deve chiudere entro il 19 gennaio del 2015, anche se nel PDF della Gcom c'è un refuso, hanno sbagliato anno. Comunque, su questa istanza non possiamo arrivare alle conclusioni, ma vi aggiornerò sicuramente. Detto questo, il titolo dell'articolo sul Fatto Quotidiano, se è riferito solo a questi casi, dal mio punto di vista, è sostanzialmente errato. C'è una palese violazione del copyright e la Gcom ancora non ha ordinato di rimuovere il blog. Ha segnalato ai proprietari dei domini che la richiesta dell'azienda per la rimozione dei contenuti che avviano il copyright non è irricevibile, che ci sono 35 giorni per adeguarsi o rispondere e che i provider possono adeguarsi spontaneamente. Chiarito questo dubbio, veniamo al secondo. Perché rimuovere tutto il blog? Sicuramente non è stata la Gcom, però, sinceramente, rimangono due problematiche. La prima è che questa procedura non tutela né i proprietari dei siti, né i creatori dei contenuti. Bisognerebbe studiare insieme una procedura standard per tutti, conosciuta e divulgata, nella quale ci sono alcuni limiti e ci si può muovere solo entro quelli. In questo modo si evitano sicuramente tutte quelle minacce inutili. E quando qualcuno vuole giustamente protestare, sa come farlo, a chi farlo, e non può utilizzare vie alternative. La seconda, poniamo il caso che ci sia un sito dove c'è solo una pagina dove si trasmette una partita di calcio illegalmente. Ecco, l'articolo del fatto è un po' forviante. Sembra che la Gcom, quando veda una sola pagina che viola il copyright, chiude l'intero sito. In realtà non è proprio così, lo scopriremo presto. Però purtroppo a malincuore, credo che bloccare il contenuto tramite DNS, quindi purtroppo bloccare l'intero sito, sia l'unico strumento veloce a disposizione. Secondo voi si potrebbe intervenire diversamente? Io ho dei dubbi, magari ne parliamo nei commenti. A questo punto però, nonostante penso che l'articolo del fatto quotidiano sia forviante, ho passato questi giorni a studiarmi tutte le istanze pubbliche. Sì, è stato un lavorone, ma almeno ora ho tutto chiaro. Ovviamente mancano tante istanze, come giustamente ha sottolineato l'avvocato. Aspettando chiarimenti dalla Gcom, io sono sicuro che ci sia una spiegazione logica. Io di pubbliche ne ho trovate 139, non 96 come c'è scritto sul fatto. Di queste 139, 11 sono ancora delle segnalazioni, ovvero devono evolvere. 40 sono delle archiviazioni formali, ovvero la richiesta sostanzialmente è stata rifiutata, o perché non c'è più la risorsa incriminata, o perché era legittima. 54 sono state archiviate perché c'è stato un adeguamento spontaneo di chi violava il copyright. Fin qui possiamo dire che la Gcom non ha preso alcun provvedimento, ma sostanzialmente queste archiviazioni sono il frutto del fatto che ci sono state delle reazioni spontanee alle segnalazioni della Gcom. Rimangono però 34 istanze, che sono diventate nel frattempo dei provvedimenti effettivi. 28 sono ordini da parte della Gcom ai fornitori di servizi di connessione a internet, di bloccare completamente tutto il sito, ovviamente dal territorio italiano. 8 perché mandavano tanti film in streaming. 2 perché mandavano le partite di calcio in streaming. 3 siti di torrent dedicati ai film e ben 15 siti di torrent dedicati alla musica. La Gcom in sostanza, su 139 istanze, ben 28 volte ordina la chiusura completa del sito internet perché vi erano palesemente e ripetutamente il copyright. Che dire, io li ho letti tutti e mi sono sembrati 28 provvedimenti corretti. Ne rimangono però 6 che non sono ordini, ma provvedimenti di archiviazione. I gestori dei siti non hanno reagito alla prima comunicazione e la Gcom quindi prende dei provvedimenti, ma non chiude i siti. Per ben tre, gli atti vengono trasmessi alla polizia giudiziaria perché la violazione accertata riguarda solo un'opera e quindi la disabilitazione dell'intero sito non risulterebbe proporzionata. Quindi abbiamo già una bella conferma. Per una sola opera non si chiude l'intero sito. Certo, però poi c'è la polizia giudiziaria. Gli altri tre che rimangono sono curiosi. Due vengono archiviati perché non si è in grado di verificare la violazione. In una perché c'è il pagamento con carta di credito e quindi non si riesce proprio a verificare. L'ultima eccezionale è la delibera 67 barra 14. La Gcom comunica ad Aruba che su uno dei siti ostati c'è una violazione. Ovvero ci sono dieci mappe concettuali in JPEG che rappresentano graficamente vari argomenti scolastici che però sono di proprietà di altri. Aruba si dichiara giustamente strane ai fatti però disponibile a contattare il proprietario del sito. L'autore comunica di rimuovere due mappe ma le altre otto le lascia perché sostanzialmente sono una segnalazione di un link alla pagina del proprietario. E qui viene il bello. La Gcom archivia il caso perché il proprietario del sito è intervenuto e nel linkare direttamente le opere originarie non commette alcuna violazione. Sicuramente è un ottimo sistema di link building. Dopo questa piccola indagine sinceramente mi sento più tranquillo. I siti non vengono chiusi interamente perché c'è una sola opera. C'erano palesi violazioni del copyright e soprattutto la Gcom non sta chiudendo forum e blog. Ecco, credo che questa piccola indagine meriti una condivisione. segnalatela a chi pensate che possa interessare. Visto che c'ero però e avevo dei dubbi la Gcom commette alcuni errori tecnici. Mi sono avvalso della competenza di Andrea Pernici che è molto più alta della mia per non commettere errori. In vari documenti che la Gcom presenta fa un piccolo studio dei siti. Il primo dato che non mi torna è quando cerca di determinare la percentuale di pubblico italiano rispetto a tutto il pubblico mondiale di quel sito. Secondo me questi dati non si possono avere e la Gcom utilizza dei tool online come per esempio SimilarWeb. Perché dico questo? Perché il secondo errore che ho notato è che considerano Cloudflare come servizio di hosting quando in realtà su Cloudflare si gestiscono solo i DNS. Per farvi vedere cosa intendo GiorgioDave.net ha l'hosting in Italia non su Cloudflare dove gestiamo solo i DNS mentre i vari tool online segnalano che l'hosting è su Cloudflare. Vabbè, questi sono dettagli tecnici però vi portate a casa una cosa. Esiste un tool che si chiama SimilarWeb.com che vi dà dati su altri siti. Provatelo. Lo so, la storia del copyright è un po' noiosa ma è molto importante per chi ha a cuore il web tenersi aggiornato sull'argomento. Mi raccomando, non facciamo come quelli che vanno in giro a dire che la riunione di condominio non ci sarà perché così poi decidono in due per tutti quanti. Il copyright è una cosa seria. Pensate che proprio questa settimana YouTube ha lanciato un tool per scoprire se posso utilizzare un brano per i miei video senza violare il copyright ancora prima che il video venga caricato e se siete interessati a questo argomento Anna di Tutto su YouTube ha creato un video apposito. Ma una cosa è violare il copyright un'altra è violare Google sì, bucarlo bucare risultati di ricerca. Avete presente i breadcams che erano cliccabili fino a qualche giorno fa? Beh, in tutto il mondo non lo sono più perché Google sta cercando di risolvere una vulnerabilità importante che abbiamo scoperto. Esatto, degli italiani hanno scoperto una vulnerabilità importante nei risultati di ricerca di Google dovrebbe far notizia. Allora, dato che non ne parla nessuno ho deciso di intervistare due personaggi uno dice la verità l'altro vuoi per il cappello vuoi per la maglietta vabbè, giudicate voi. Nome Black Andrea Cognome Hat Pernici Ruolo in GT Idea Cos'è la GT Idea? Co-founder che detta all'inglese fa più figo Cosa avete scoperto? Che potevamo fare tanto male. Io e Marco Quadrella hashtag quadroquadretti per il popolo dei social abbiamo scoperto una vulnerabilità XSS all'interno dei motori di ricerca nello specifico di Google e quindi detta in modo semplice per tutti una vulnerabilità che permetteva ad un malintenzionato di inserire del codice javascript all'interno dell'azione click su rich snippet breadcrumb. Qual è la pericolosità di questa cosa? 50 Beh, insomma la pericolosità di questa cosa è abbastanza elevata basta cercare un po' XSS attack su Google per capire un po' tutti i tipi di attacco che si possono fare in questa forma. Perché avete scelto di comunicarlo pubblicamente? Pubblicamente? Comunicare? Noi l'abbiamo bucato e basta. Beh, abbiamo scelto di pubblicarlo online accessibile a tutti perché abbiamo un po' seguito le mosse dei Googler che tendenzialmente anche quando ci sono aggiornamenti algoritmici o altri tipi di aggiornamenti relativi al motore comunicano sempre attraverso profili personali social su Google Plus o su Twitter. Quindi abbiamo deciso di scrivere questo articolo con la spiegazione di questo bug di questa vulnerabilità e su Google Plus abbiamo notificato John Mueller per avvertirlo e per fargli girare la questione agli ingegneri che si occupano della sicurezza di Google motore di ricerca. Come hanno reagito da Google? Beh, malissimo. No, scherzo. Da Google hanno reagito molto velocemente e hanno diciamo messo una toppa sulla falla in modo immediato disabilitando i breadcrum in tutto il mondo. Quindi chiunque adesso cerchi sul motore di ricerca un qualsiasi risultato le briciole di pano sia quei linkettini verdi non sono più cliccabili da nessuna parte e come conseguenza peggiore abbiamo subito anche una penalizzazione manuale un'azione manuale ricevuta all'interno dei webmaster tool per tutto il sito giorgiotave.it Avete recuperato dalla penalizzazione? Noi siamo come l'araba fenice traiamo forza dalle penalizzazioni. Sì la risposta è sì abbiamo recuperato e anche velocemente ovviamente in questo caso era molto semplice recuperare perché sapevamo già qual era il problema ma abbiamo recuperato in cinque giorni quindi dall'azione manuale che abbiamo ricevuto abbiamo pulito la pagina dal codice malevolo e abbiamo inviato la richiesta di riconsiderazione in cinque giorni i responsabili del search quality team hanno tolto la penalizzazione. Rifareste tutto allo stesso modo? Amico mio che dici? Ni Ni nel senso che dopo aver pubblicato questo articolo e reso pubblico sui social Andrea Scarpetta David Sottimano Eric Wu e lo stesso John Mueller più tardi hanno segnalato l'esistenza di un programma di Google che si chiama Vulnerability Reward Program VRP dove in pratica è possibile segnalare a Google questi bug di sicurezza e addirittura essere ricompensati in denaro oppure se uno non vuole denaro può devolverli in beneficenza però in sostanza noi avremmo agito in questo senso. Siete entrati in contatto con il team security di Google? Diciamo che abbiamo i nostri informatori ho firmato un NDA non te lo posso dire mi dispiace no sto scherzando dopo aver scoperto appunto l'esistenza di questo VRP abbiamo fatto la richiesta appunto notificando la cosa anche tramite questo programma ma l'abbiamo fatto dopo aver avuto la certezza che Google avesse già risolto il problema quindi siamo entrati in contatto loro ci hanno scritto ci hanno anche chiesto un feedback su come mai delle figure molto tecniche con una grande conoscenza dei motori di ricerca come noi non hanno trovato questo programma e semplicemente la risposta è stata quella che non eravamo proprio a conoscenza dell'esistenza di questo programma Andrea mo' abbiamo spento la telecamera quindi mi posso rilassare senti ma mi avete svegliato a mezzanotte ma tu e Marco ma come cavolo l'avete scoperto non è che fai come quelli di Report che non l'hai staccata no no è staccata la telecamera è staccata che domande fai lo sai noi siamo SEO siamo curiosi ci piace smanettare vedere fare brigare cosa ci vuoi fare se vuoi essere SEO devi essere curioso beh questa è un po' la storia di come è andata e noi siamo orgogliosi di tutto questo per quanto riguarda Google però c'è un'altra storia che merita di essere raccontata sì la chiusura di Google News in Spagna la storia vuole che una legge del tardo medioevo fatta da persone incompetenti impona alle testate di richiedere un compenso a Google News per mostrare anche piccoli snippet del loro testo indipendentemente dal fatto che queste vogliono farsi pagare o no e Google finalmente ha risposto da Google gli ha detto sapete che c'è ciao chiudiamo Google News sono queste le risposte che mi aspetto da Google drastiche che facciano capire la cavolata ma la cosa che mi ha fatto morire dal ridere è che l'ho scoperta tramite Alessandro Mencarini e che l'associazione spagnola degli editori ha chiesto al governo di intervenire per fare in modo che Google News non chiuda Totò ha venduto la fontana di Trevi ma questi stanno per battere tutti i record di comicità ma cosa mai li potrebbe salvare dall'estinzione si stanno suicidando di continuo vabbè lasciamo stare passiamo dai giornali ai blog giusto per riprenderci un po' Riccardo Scandellari ci fa scoprire che su LinkedIn basta passare dalla lingua italiana a quella inglese per ottenere il blog di LinkedIn senza aspettare che ci venga accettato io credo che lo userò per archiviare le puntate di Fast Forward si sa molte funzionalità vengono sempre prima testate in altre lingue come per esempio Facebook Search che attualmente è attivo solo negli Stati Uniti ed offre la possibilità di ricercare nei post è lontano dall'essere un vero e proprio concorrente di Google ma sicuramente è un primo passo oltre a Facebook Search ci sono state tre notizie che mi hanno colpito del social network di Zuckerberg se ne parla da un po' ma pare che sia arrivato finalmente il momento di vedere le tendenze anche su Facebook su Facebook Ads invece è arrivato il targeting per interessi che ci consente di mirare in modo diverso il nostro pubblico proprio in base a cosa sono interessati e infine un pulsante sulla cover per le pagine che invita l'azione al di fuori di Facebook come sempre in descrizione i link dei vari approfondimenti e c'è anche una segnalazione di un articolo fatto da Veronica Gentili che racchiude tutte le novità di Facebook di questa settimana state invece attenti alle bufale e alle menzogne qualcuno ha messo in giro la voce che Facebook diventerà a pagamento ovviamente è falsa però poi queste storie diventano popolari perché il creatore crea dei profili falsi che commentano in modo serio la notizia e cosa fanno tutti? li vanno a prendere in giro facendo spargere la voce segnalate questi articoli per spam e ignorateli l'unica cosa che è diventata a pagamento segnalata da Massi Biaggio e Francesca Gallo è che se non sei amico di una persona su Facebook e il tuo messaggio privato potrebbe andare nella cartella altro Facebook ti dà la possibilità pagando 78 centesimi di far arrivare quel messaggio direttamente nella posta in arrivo come direbbe Antonio Albanese I Caino a proposito di bufale e bugie questa settimana è stata anche quella dell'hashtag selvaggia non mentire è pieno di video sull'argomento anzi in descrizione ve ne lascio alcuni veramente importanti se volete approfondire voglio però ribadire un concetto la protesta non è nata questa settimana ma è un movimento che si è creato tanto tempo fa grazie a vari youtuber RAS Taglionetto Dellimello e Boban Pesov Taglionetto addirittura era arrivato oltre prevedendo che Francesco Sole sarebbe finito in tv ma quello che molte persone non hanno capito è che mai è stato criticato il progetto Francesco Sole mai è stato toccato il ragazzo e mai ci si è scandalizzati infatti grazie alle informazioni di questi youtuber la cosa era conosciuta da tanto tempo la protesta era focalizzata su un aspetto soltanto che all'uscita del libro di Francesco Sole chi cura la sua immagine ha propinato una storia falsa dicendo che è un ragazzo che si è fatto da solo e ha altre storielle di questo tipo tutto qui hanno raccontato una storia palesemente non vera poi la protesta si è ingigantita e in alcuni ambiti è stato anche oscurata la sua origine sono tantissime le persone che sono state bannate dalle pagine e i commenti sburgerdavano proprio questo comportamento Selvaggia e company hanno semplicemente lasciato gli insulti per far credere a chi leggeva che c'erano solo quelli e allora è passato il concetto che la protesta si concentrava sul fatto che Francesco Sole fosse un progetto di marketing cosa assolutamente falsa si chiede semplicemente la trasparenza il marketing non sarà mai mentire e trovo assurdo criticare chi chiede onestà la Red Bull è stata condannata perché loro dicevano che mettevano le ali invece non era vero non c'è niente di così complesso dite la verità è semplice altrimenti se voi volete concentrarvi su altri aspetti della protesta fatelo pure ma non perdete mai il focus è nata per chiedere trasparenza e per non prendere in giro le persone non per l'odio verso qualcuno ah piccola parentesi a me i video di Francesco Sole piacciono tanto ma non li ho mai condivisi perché ho notato che copia spesso ha copiato pari pari un video spagnolo e anche le citazioni che mette nei post-it addirittura ha copiato Bukowski e detto fra noi ho apprezzato ovviamente i video di tanti youtuber ovviamente quelli di Daily Mello che ha lanciato tutto Boban e Taglionetto ma anche Rob Forchetta che ha un modo di vedere le cose che mi piace veramente molto Claudio Di Biaggio a cui va il merito di aver fatto esplodere la protesta ma anche Shai e Yutobi che hanno portato le loro visioni questo fenomeno per chi non vive dentro youtube è difficile da focalizzare ma sappiate che ha leggermente modificato i rapporti tra i vari youtuber in questo ambiente e ha sensibilizzato migliaia e migliaia di persone non è stato un movimento contro nessuno ma un momento di crescita che può portare ad un effettivo miglioramento di youtube italia se volete fare un passo avanti veramente dentro questa vicenda vi consiglio un post di Anna Covone che ha fatto sul suo blog così potete comprendere come la questione è tanto importante per chi vive la piattaforma perché riguarda i valori e l'identità e chiudo la faccenda con la vision di youtube broadcast yourself trasmetti te stesso siate onesti sinceri e trasparenti e soprattutto siate voi stessi la risorsa della settimana è un articolo su friend strategy comprare i like fan di facebook è una cazzata ecco i dati che lo dimostrano e con questo è tutto al mio fianco trovate due video il primo dedicato al fatto che facebook gonfia le visualizzazioni dei video e il secondo come guadagnare sul web le nuove frontiere se il video vi è piaciuto cliccate su mi piace soprattutto aspettiamo i vostri commenti in basso e se ancora non lo avete fatto iscrivetevi al canale per non perdere l'appuntamento fisso con fast forward ogni martedì alle ore 12 anche durante le feste non perdere Grazie a tutti.